La libertà possibile in tv è un obiettivo raggiungibile? È un obiettivo raggiungibile se la mettono in testa e se ormai anche nel cuore gli autori, perché questo è il festival degli autori. La libertà è innanzitutto questione di autori. La prima cosa è di non farsi censurare fino al punto da autocensurarsi. La libertà nasce innanzitutto ad essere liberi dentro. Cosa è dovuta allora a tutta questa preghinizia secondo lei? Le reti che chiedono, una volta raggiunto il successo, di ripeterlo all'infinito. Gli autori che, scoraggiati dal fatto che le tv chiedono solo questo, alla fine non pensano più nuove idee. Il sistema televisivo che vuole solo massimizzare gli ascolti, almeno nella grande tv generalista. Tutte queste cose insieme fanno sì che alla fine la televisione italiana sia una delle più immobili del mondo. Dovrebbe essere cambiato quindi, secondo lei, questo sistema di operare in questa tv? Io credo che il cambiamento avvenga per piccoli passi, per momenti in cui uno intravede una possibilità di cambiamento e ci prova. In questo momento si sta criticando molto quel che la RAI sta costruendo attorno al fenomeno degli europei di calcio. Poteva essere l'occasione in cui sperimentare nuove facce di conduttori sul calcio, nuovi autori, nuovi format, perché tu comunque su una cosa così avevi la garanzia di un ascolto importante. Quindi poteva essere un momento ricco di... E invece non è stato fatto. Qual è stato, secondo lei, un programma in questa annata televisiva che doveva meritare di più come ascolti per tutta la sua progettazione? È spiaciuto tutto sommato, dico la verità, che nonostante abbia fatto ascolti record per la sua rete, parlo della Sette, parlo di Fazio Saviano, quel programma lì a me è spiaciuto che quest'anno la RAI l'abbia perso, so che l'anno prossimo lo riavrà. Saviano per due anni e mezzo non ha fatto più televisione. Io credo molto all'intuizione che ha Fazio che sia potenzialmente un grosso animale televisivo, ma se tu non ci lavori sopra, in realtà perdi una grande occasione. Ecco, secondo me questa qui, in questi due anni e mezzo, è stata una delle grandi occasioni perdute da televisione italiana. Abbiamo parlato quindi di Saviano come una carta vincente. Quali sono i suoi segreti, secondo un esperto come lei? Il non essere televisivo. Cioè Saviano, quando parla, non sa neanche dove è la camera. È come se ti dicesse, quello che conta è quello che sto dicendo. Ma secondo me la sua forza è proprio questa. Cioè lui racconta, ha dei tempi di racconto, ha aiutato da uno come Fazio. Questi tempi sono dei tempi giusti, sono dei tempi televisivi, non anti-televisivi. Ecco, secondo me lui può crescere in questa dimensione. Parliamo quindi adesso dei TV Talk, uno dei programmi di punta del ritirare di Rai 3. Qual è l'ingrediente magico che fa di TV Talk una trasmissione di così grande successo? La formula vincente di TV Talk sta dietro al fatto che questo paese è malato di televisione. Tutto quello che succede in questo paese passa per la televisione. Questo meccanismo, che secondo me in realtà è patologico, fa sì che se tu parli di televisione una volta alla settimana, in qualche modo parli del paese. La cosa che si apprezza molto del suo programma è che siete anche coltivatori di giovani talenti. Vedo molti opinionisti, ragazzi giovani, proprio come noi. Qual è il consiglio che dà lei, un consiglio d'esperto ai giovani per poter andare avanti e arrivare? Beh, innanzitutto non avere in testa di arrivare. Cioè, secondo me uno deve coltivare la propria creatività ed essere fedele alla propria creatività e crederci fino al punto di voler anche pagare dei prezzi pur da arrivarci. Secondo me, ecco, nella pigrizia di cui parlava Freccero rispetto agli autori italiani c'è anche questo. Cioè, che spesso gli autori italiani non sono fedeli alla propria creatività. E come dire, la svendono in qualche modo. Invece, se uno è fedele, alla fine i risultati di me ci arrivano. Ringraziamo il disponibilissimo Massimo Bernardini qui con noi per Campus Wave TV e lo congediamo. Grazie mille.